Fano ha una storia radicata nel passato romano, ci sono testimonianze importanti, Vitruvio era una persona che sicuramente ha segnato il futuro delle generazioni che sono succedute a lui. Indubbiamente questa è una zona molto romanizzata come tutta l'Italia e Vitruvio è un grande architetto, non c'è dubbio insomma, ma d'altra parte come dicevo poc'anzi per fortuna i pilastri della civiltà antica si sono salvati. Cioè quando abbiamo Vitruvio nell'architettura, Tacito nella storia, quando abbiamo Plauto nel teatro o Terenzio, quando abbiamo Plinio nell'enciclopedia, quando abbiamo Virgilio, Catullo e Ovidio nella poesia eccetera eccetera, insomma sostanzialmente possiamo dire che la gran parte delle nostre radici si è salvata e sono ancora vive. Grazie